Ok, cerchiamo la nuova partita e vediamo se riusciamo a farla funzionare o questa. Non lo so, vediamo. Ok. Biller, 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 Biller. Ok, ho cambiato del scenario ancora. Dai, chi ti guida? Guido io. Ok, il pop è un po' avanti. Oh, infezione. Io mi butto kamikaze. Via, vai. Oh, dove sono finito? Ma non ho armi qua? Oh, è un po' avanti. Oh, è un po' avanti. Noi mi faccio sparare. Non riesco spara così. Guardate, ti schiaccio. Se non posso sparare, ti schiaccio. Eeeh, da dietro, io non riesco a vedere da dietro, perché? Eeeh, da dietro, io non riesco a vedere da dietro, perché? Beh, due pistolate e una coltellata, questo è male. ... ... ... ... ... ... Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Ciao, benvenuto! Qua? Qua? Stanno solo sparando, via! Guardalo via! Eh, però ragazzi... Ho capito che li sto imparando, ma... Ma ricarico! Eh, ricarico, va bene! Eh, che... C'è qualcuno qua! Andiamo a ricaricare! E' inutile che vado via, perché tanto non... C'ho un mitra, non ho... Non ho un fucile... da tiratore... Vieni qua! Ok... Baccato! Resta! Dove sei? Vieni qua! Ok... 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 I SON DELLE CISTI... c'è un tiratore scelto qua, ecco guarda, sta facendo l'appacchina ah no ah no ah ma... ma stai zitto, coglione ma stai zitto? tu madre vai campanita eeeh la testa eeeh anche la tua ma tu, con le pop e colp eeeh ma tu stai messo male per un gioco ma tu stai messo male per un gioco ma tu stai messo male per un gioco che bravo allora, ho sbloccato questo, no, che faccio? ah, questo è un po' maggiore, guarda se non c'è un fallo promozione potenziamento e va bene, e mo? 50 colpi, bene ok che c'è? allo? io posso cambiarlo? uscire di precisione, poi io non presto, ma ripente da dove vanno guarda, 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 guarda guarda, guarda, guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda arrivano, armi pronti? bene, aspetta proviamo questo pochino qua oh non è curvo così da un camminare cos'è che viene? non è curvo non è curvo ricarico vediamo il frattaccio o no, e avanti vi ho vico il frattaccio ora siamo il frattaccio colpito abbiamo il frattaccio ricarico combate la ha acquistato arrazzo partito ahhh Mi ha avuto un po' di giro! Grazie, grazie ok mi hanno individuato cavolo mi ha preso niente pareva e dopo mi beccano e mi curano però un po' ne ho fatte fuori dai no che caccia fanno no ho sbagliato allora ce la faccio a posizionarmi ah no questo è mio questo non è mio no 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 stiamo a metà avanti così stiamo a metà avanti così non è là però non ce la faccio a prendere ricarico devo andare un po' più vicino avanti ho il suo viije number quattro not il mi Fandemi vedere i doppi Mazzina l'ho già preso Ma che cosa c'è? Ma che vicino? Cosa che c**o? eh per far ora da dietro ma per carino da dietro non siamo coperti da dietro non siamo coperti io non ti guardo dietro calda andiamo subito da qua che bisogna coprire la nostra gente dai ricarico no ricarico fp in bordo preso? ah sii buonanotte mi ha proprio lui questo qua guarda che che cacchio di cucina io lo userai dove sono? segnale di inserimento posizionale no 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 ho sbagliato niente ma parca miseria si si ricarico qui mi hanno colpito a volte sono di là così così attendo che io c'è ecco la battaglia è no concentrazione ok ok occhio dove sparo passiamo avanti te ricarico oh che spara spara ricarico 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 fucile ma non so se posso averlo uno più un po' più performante ubb 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 o ubb 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 ma non è di freddo un canottiera proviamo questo allora se io scopo qua questo forse è un po' più non vedo nessuno eccolo invece però mica lo prendo è un po' più Hey, you hear me? Hey, you hear me? Allora? Troppo lontano. Eh, in espulso per natività. Hai capito cosa ti dicono? Se non ti muovi, ti buttano fuori. Così non va bene. Non ero fermo, ero proprio lì a cercare un po' posizione. Non so, questo mi piace. E' una lezione. E' una lezione. E' una lezione. Chiar mudanda. Squadra. ah io che arma ho preso? oddio non l'ho guardato mi ha detto che vedi da me no no tu sei un po' come ho non 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 è che era stato costumibile chiama che ti va a dir? che ero che tu ero che ti va a dir? guarda davanti Sì, si basse, si ruppi Hai visto? Se guardavi davanti, c'era l'altro ricordo Ah, prenderemo la torre, dai Dov'è l'elicottero? Non c'è Eh, su, in alto Ricordo, non ci sono Ricarico! Muoviamo! Disparano! Ricarico! Disparano! Ricarico! 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 E poi tolè matao Ricarico! 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 Oh no! Dio, come se un messo bene a mezzo? Forza, per me la mezzo non potremo ecco la torta cavo occultato non potremo non potremo Contatto Contatto No, no, pero el otro está en la... como... el que me ha matado Con este fusilio, a mí me ha mitragliato ahora, no es preciso No, 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 no... No 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 Grazie a tutti. 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 Scusso. Scusso il compagno. No, io non posso cambiare arma. Scusso. 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 Duc ha vinto abbiamo preso il controllo abbiamo perso il battaglia bravo no fa giocare da Adesso, appena metto fuori il naso, pappa. Perché non ce la faccio a mirare subito? Eccolo, era lì che mi aspettavo. Mi hanno colpito! Stiamo in vantaggio noi, avanti! Ma dove può passare? Mi attaccano! Che te l'ha visto? Che cazzo lo vedi? Wow, che bello! Stiamo in vantaggio! Non, non, non ci sono. Non ci sono un po' di più, non ci sono. Non ci sono tutti i voli. Non ci sono un po' di più. Ops, mi sbagliato in fine. Eh, mi sembra che sia uno di quei due qua C'è il drone, zia! Ah, miseria! C'è il drone! C'è il drone! C'è il drone, mi sembra di fare? C'è il drone. Il drone si vede! change to the world! Non è vero il drone! Un drone! Non è vero il drone! Non è vero il drone, ma lo sai! Non è vero il drone, non è vero il drone ma Non è vero il drone! Nel drone e non è vero il drone! Si sparano! Oh! Eh no, ti prendo! Eh, non so mai che c'è pochi oggi! Sono drissimi a contagi! Oh! Mi ha dato sul muro! Oh, dai! Oh, dai! Oh, dai! Oh, dai! e e e e e e e un po' di ritorno ottima scelta non è posto non so che treno muore l'attuccio io levo davanti con te guarda non c'è quale viene qui eh è vero via sparato a c cavalli cambio caricatore eh è vero via c 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 Mostra la posizione approssimativa del bersaglio del contratto. Ben fatto! Dai la caccia al tuo bersaglio nella prossima area. Ben fatto! Quel contratto ha pagato profumatamente. Prendi il denaro del bersaglio. Bene, adesso è tuo. Quando muori, perdi gran parte del denaro. Però hai vari modi per mettere al sicuro il denaro. Puoi usare palloni di deposito e deliporti di deposito per inviare il denaro alla base. Avvicinati all'eliporto di deposito. Chiama l'elicottero. Ottimo lavoro. No, mi faccio chiamare. Ah, così. Metti il denaro in quella borsa. Ben fatto! Carico depositato. Velivolo in rientro alla base. Bene, spostati nell'area successiva. Quell'aereo cargo ha appena consegnato un lancio di denaro. Avvicinati al lancio di denaro e saccheggialo. Ottimo lavoro. Prendi quel denaro, soldato. Bene, lancio di denaro ottenuto. Bene, spostati nell'area successiva. Compra un pallone di deposito da una stazione di acquisto. Caccia fa. Ottimo lavoro. Ora schieralo e carica tutto il denaro che riesce a portare. Al-2R. Caricalo con il tuo denaro prima che scada il tempo. Ottimo lavoro. Ben fatto. Quel pallone può diventare un bersaglio. Attenzione. Non è partito. Il denaro è al sicuro. C'è un bersaglio prioritario nei paraggi. Apri la mappa tattica, così possiamo stanare quel bastardo e fregargli il denaro. I giocatori che hanno più denaro sono indicati sulla mappa tattica. Questo ha una corona, vuol dire che il suo team è in testa. Questo è assolutamente inaccettabile. Dai la caccia al giocatore che ha più denaro. Bene. Adesso prendi il suo denaro. Ancora, la miseria. Tra il tutto il denaro. Raggiunto un milione, tutto il denaro viene depositato in automatico. Ottimo. Ok. Ricordate, il palloppo vince chi alla fine ha raccolto più denaro. Obiettivo principale completato. Bel lavoro. Basta, ho già fatto questo. Vediamo se ho migliorato. Ciao. Grazie a tutti. Match a squadra. Arrivano, armi pronti. Oddio, facciamo i raccoscurare le piappe. E coca, arriva dentro lui. Eeeh, guardalo. Ok. Io non i tolava pa. I can, i can, i can. I can, i can. I can, i can, i can, i can. Aviamo i carico. I can! Ruoc! Ricarico! Sistema troppo in uso... Ricarico! AAAAA? Oh! Guardi sparano subito... Capito? Ok. Anche come spari. Sì, sì, sì. C'è un bel altro pozzo. come ti fai mirato in palmi? Sì, non lo sovraggio. un po merda c'è la munizione c'è la munizione c'è la munizione Ok Oh no! Oh no! Oh no! He's there, yeah. Hey! A karton is a risk. Shh I'm gonna start this video, I don't have to do that. Regnale di inserimento posizionato Sistema profilo Rinald si posta Bambino che parlo in questa roba Ricarico 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 No e 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 Oh è in carico Molto da gente temido 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 Molto da gente temido